Buonasera e bentornati in questa terza edizione del TG6 che apriamo parlando ancora di maltempo, una fase di forte attenuazione quest'oggi sul fronte meteo, alle spalle le ultime ore molto convulse, però come accade nel cosiddetto day after, è sempre il momento delle stime, dei danni. Quello che è accaduto quest'oggi quando i sindaci dei territori più colpiti hanno appunto fatto le prime stime e hanno chiesto l'intervento della regione. Vediamo. 48 ore di pioggia e il territorio mostra tutte le sue criticità. È successo a Pescara dove il fiume è esondato nel cuore della notte con un pronto intervento da parte dell'amministrazione comunale che ha provveduto a chiudere le golene tutte le aree colpite dall'allagamento. È successo a Chieti dove a cadere è stato un muro di contenimento su via Colonnella, strada interdetta al traffico in attesa di poter provvedere ai danni. Più in basso a Chieti, Scalo, lo stadio Angelini ha subito un allagamento che è valso l'ordinanza del sindaco di Primio con conseguente rinvio della gara da disputare contro la Folgore e Veregra, rinviata al 9 dicembre, danni che ormai rappresentano una preoccupazione costante ad ogni ondata di maltempo. 15.000 persone per alcune ore sono rimaste senza acqua e poi soltanto il grande lavoro degli operai comunali per tutta la notte tra il venerdì e il sabato ha consentito di restituire già dal mattino acqua a tutta quella parte di città. È ovvio, sono eventi eccezionali, noi cerchiamo di affrontarli sempre con il piglio giusto, ma soprattutto con l'organizzazione più idonea, ma quello che oggi serve è investire, e questa è la dimostrazione ulteriore, investire sulla prevenzione in campo di distesso idrogeologico. A subire conseguenze sul territorio è stata anche Francavilla al mare. Il maltempo ha causato l'erosione della costa, danni che si ripercuotono su tutto il comparto del turismo, una delle voci più importanti del comune. La forza del mare non si può arrestare e quindi c'è stato un forte fenomeno di erosione, alcuni stabilimenti sono in parte crollati o comunque sono danneggiati. Noi abbiamo avuto un intervento lo scorso anno per circa un milione e mezzo, ma per dare un ordine di grandezza e per capirci, qua servirebbe un intervento, forse non basterebbero 10 milioni di euro di intervento per sistemare i 7 km di costa francavillese. Quindi bisogna intervenire, ma bisogna soprattutto intervenire continuamente con la manutenzione ordinaria che è lasciata a se stessa. Anticipato in provincia di Teramo il piano neve che sarebbe dovuto scattare il prossimo 1 dicembre. Da ieri mattina invece anche i mezzi delle ditte private affidatari del servizio sono in azione sulle strade dell'ente. Scatta in anticipo il piano neve della provincia di Teramo dopo che le provinciali per le aree interne, in primis la strada provinciale 43 per Pietra Camela e i Prati di Tivo e la strada provinciale 49 per Valle Castellana, si sono imbiancate. La neve è ovunque a 700 metri lungo tutto l'asse montano Teramano. La provincia ha aumentato da 15 a 23 il numero dei comprensori, in cui dal punto di vista viario viene suddiviso il territorio. Costo per l'ente 320 mila euro, ma il piano neve ogni anno costa almeno 600 mila euro. Abbiamo 23 ditte che lavoreranno su questa provincia di Teramo, l'abbiamo ridisegnato anche con i sistemi di sicurezza, obbligando le ditte a mettere GPS e mettendo GPS anche sui nostri mezzi, in modo tale che l'operatore numero verde ha un quadro completo e puntuale di come stiamo intervenendo sulla provincia di Teramo per rispondere anche alle emergenze e l'eventuale segnalazione, anche per controllare i lavori che si fanno sulle nostre strade provinciali durante il piano neve. Queste sono due caratteristiche principali. Dobbiamo ringraziare anche le stesse ditte che hanno supportato, hanno condiviso questo piano neve, perché ovunque abbiamo ditte che hanno risposto alla gara, un piano neve che va anche a risparmiare, perché quest'anno spenderemo 320 mila euro. Se non dobbiamo sommare il vecchio piano neve più gli interventi fatti e chiamata, abbiamo speso di più negli anni precedenti. 100 mila dalla regione, ce ne vogliono 200 solo per il sale? Beh sì, perché in realtà abbiamo fatto il più formato di sale, il sale noi spenderemo circa ogni anno 200 mila euro. Io dissi in Rulione e in Regione Abruzzo che almeno si chiedeva la copertura della foto del sale, anche perché l'ansia che ci mette la neve è che a volte abbiamo scoperte le risorse e quindi facciamo fatica magari anche a intervenire. Capiti gli uffici che devono acquistare sale e non hanno le coperture finanziarie. Stiamo convinti che questa è una prima somma, magari la regione Abruzzo recupererà altre somme sui propri bilanci per supportare delle province che comunque stanno sempre in difficoltà. Ed ora la storia a lieto fine di Tiziana Balducci, la 54enne terramana che era scomparsa da lunedì scorso e che dopo giorni di ricerca è stata rintracciata ieri nel tardo pomeriggio in un centro commerciale a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Decisivo il lavoro degli uomini della squadra mobile di Teramo in collaborazione con gli uomini della questura di Bologna. Vediamo. E' provata, stanca, ma sta bene Tiziana Balducci, la 54enne terramana che per quattro giorni ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il marito e i figli soprattutto che solo ieri sera hanno potuto riabbracciarla. Rintracciata nel tardo pomeriggio in un centro commerciale di Bologna grazie al lavoro svolto dagli uomini della squadra mobile di Teramo guidati dal vicequestore Gennaro Capasso e alla collaborazione delle forze dell'ordine di Bologna. Rintracciata attraverso una telefonata. Il cellulare della donna era tornato raggiungibile per appena dieci minuti. I sistemi informatici della Polizia di Stato terramana erano sulla sua frequenza e hanno individuato il segnale proveniva da Roma. Ma nonostante sia stata tempestiva la segnalazione alle pattuglie nella capitale e la partenza di personale da Teramo, di Tiziana Balducci in un primo momento non si è trovata traccia. Successivamente l'ulteriore tentativo. Il telefono si è riacceso per un quarto d'ora ed era ancora a Roma ma si stava muovendo in direzione dell'autostrada A1. A quel punto le ricerche sono state indirizzate verso quella direzione e in attesa di un altro segnale importante da rilevare. È successo intorno alle 17 e l'epilogo ha chiuso 5 giorni di apprensione di una famiglia e di una intera comunità. Tiziana Balducci da ieri sera sta a casa. Sta bene. Il marito, Roberto Faragalli, non ha voluto parlare davanti alle telecamere ma raggiunto telefonicamente ha ringraziato nuovamente tutti per l'aiuto e la vicinanza ricevuta in questi giorni. Ha confermato che la moglie Tiziana sta bene, è a casa da ieri sera ma non ha ancora detto una parola su quanto accaduto. Adesso per Tiziana Balducci rimane un interrogativo. Perché si è allontanata? Su questo farà chiarezza l'incontro della donna con gli agenti della squadra mobile di Teramo previsto per la settimana prossima. Archiviato il reato di falso si alleggerisce la posizione del sindaco di Pescara Marco Alessandrini nell'ambito dell'inchiesta sul mare inquinato. I fatti sono relativi alla scorsa estate. Resta in piedi invece il reato di omissione di atti d'ufficio in concorso con il vice sindaco del Vecchio e il dirigente comunale Vespasiano. Sindaco Alessandrini, è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini per quanto riguarda l'inchiesta sul mare inquinato di Pescara. È un'inchiesta che si sta sgonfiando? In un certo senso, facendo una metafora climatica, dopo la tempesta torna sempre il sereno. Vi è stato un primo provvedimento di archiviazione che naturalmente ci fa piacere. Resta una porzione di indagine in atto. Noi come sempre affrontiamo tutto ciò con serenità e con la piena fiducia nell'operato della magistratura. Lungi da noi l'idea di gridare i complotti. Oggi chi ha ruoli pubblici non di rado vede il proprio operato al vaglio della magistratura. Questo anche per un certo tasso di denuncite imperverse. È una nuova forma di lotta politica molto propria dei nostri tempi. Però al netto di questo io sono perfettamente consapevole del clima in cui viviamo e abbiamo attraversato con tranquillità anche questo passaggio. A mente fredda rifarebbe tutto quello che ha fatto scorso mese di agosto? Evidentemente no, però io so anche che ed è questo che in qualche modo ha determinato il mio stato d'animo sereno io so bene che mai e poi mai la salute pubblica è stata messa a rischio so bene che questa vicenda non involge in alcun modo aspetti e riflessi patrimoniali e quindi diciamo che siamo lieti per come le cose si stanno andando ma ciò rappresenta anche uno stimolo se vogliamo ulteriore per impegnarci su un ambito, su tanti ambiti ma in particolare su quello della qualità delle acque perché i mali del nostro mare sono legati ai mali del nostro fiume. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente è indagato lo ha reso noto il primo cittadino stesso proprio nella giornata di ieri non ci sono particolari dettagli relativi appunto all'inchiesta in cui è coinvolto il primo cittadino oggi però abbiamo raccolto il commento di Carlo Benedetti presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila che commenta la clamorosa notizia e su questo aspetto l'avvocato presidente del Consiglio Comunale Aquilano sdrammatizza Non ci vedo nulla di strano né di clamoroso c'è stato un esposto anonimo e tanti ne arrivano alla magistratura e come altrettanti interessano amministratori pubblici la magistratura ora farà le sue indagini al sindaco dico male non fare, paura non avere sdrammatizza l'avvocato Carlo Benedetti nonché presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila la clamorosa notizia dall'esistenza di un'inchiesta penale a carico del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente diffusa dal diretto interessato che in una nota di ramata ieri ha rivelato di aver ricevuto una richiesta di proroga di indagini preliminari su una vicenda precisa Cialente di cui non sono a conoscenza e ne do comunicazioni in nome della trasparenza e prima che si scateni il battagio mediatico il reatto ipotizzato è quello dell'abuso di ufficio conferma oggi lo stesso avvocato Benedetti subito contattato da Cialente per la nomina difensore in aggiunta si sa solo che l'indagine è stata avviata nel marzo del 2015 dalla procura della Repubblica del Capoluogo coordinata dai magistrati Fausto Cardella e Stefano Gallo e portata avanti dalla Guardia di Finanza di un'indagine che coinvolgeva il primo cittadino in città si parlava del resto da mesi non a caso il tantamma ha creato problemi politici e di tenuta alla stessa maggioranza di centro-sinistra Benedetti però considera non fondati in quanto non verificabili le voci che a seguito del battaggio mediatico provocato paradossalmente proprio dalla rivelazione del sindaco parlano di una vicenda relativa a lavori effettuati nella sua abitazione danneggiata dal sisma da parte di un noto imprenditore e di non precisati in essi con la vicenda risalente a prima del terremoto della mancata realizzazione della metropolitana di superficie un sindaco, aggiunge Benedetti viene fatto oggetto di decine di esposti anonimi è cosa normale la magistratura ha poi il dovere di fare le indagini nella maggior parte dei casi l'esito è comunque l'archiviazione nel caso specifico, aggiunge Benedetti proprio perché le indagini avviate a marzo sono state prorogate di altri sei mesi senza che il sindaco abbia ricevuto avvisi di garanzia tutto lascia supporre che il caso sia destinato a sgonfiarsi a concludersi con un nulla di fatto Benedetti non lo dice insomma ma lascia intendere che il sindaco Cialente rivelando l'esistenza dell'indagine forse si è fasciato la testa prima del tempo colpisce alle spalle con un bastone l'ex fidanzata e le procura un trauma cranico con le accuse di stalking e lesioni aggravate i carabinieri della compagnia di Atessa hanno arrestato un 33enne di Tornareccio sempre in provincia di Chieti l'uomo è stato portato nel supercarcere di Lanciano l'episodio è avvenuto ad Atessa l'aggressione si è verificata nonostante all'uomo fosse stato vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex che fin da febbraio scorso era oggetto di atti persecutori e minacce per i quali aveva già denunciato l'uomo finito agli arresti domiciliari ad agosto e in seguito tornato in libertà pioggia di emendamenti alla Camera sulla legge di stabilità le proposte di modifica presentate in commissione bilancio sono circa 5.000 il termine per gli emendamenti era fissato ieri sera le operazioni di voto secondo l'attuale calendario inizieranno nel pomeriggio di domenica 6 dicembre l'Abruzzo ha due relatori la senatrice Chiavaroli e l'onorevole Tancredi il nuovo centrodestra Abruzzo sullo scenario politico ha due esponenti come relatori della legge di stabilità Federica Chiavaroli al Senato della Repubblica e Paolo Tancredi alla Camera dei Deputati massimo impegno per risolvere questo prestigioso compito con determinazione e forte senso di responsabilità vista la rilevanza della legge nel quadro normativo nazionale e la sua incidenza sulle singole realtà territoriali ha garantito l'onorevole Tancredi ieri sera alle 18.30 è scaduto il termine per gli emendamenti ahimè sono più di 5.000 quindi il lavoro si perspetta molto lungo e complesso però i temi che la maggioranza si è posta per questa lettura alla Camera sono ben chiari e c'è insomma al di là di alcuni dettagli una unità di intenti per intervenire sul Sud con interventi che riguardano lo sgravo contributivo e anche il credito d'imposta per gli investimenti sulle aziende questa misura dovrebbe interessare anche l'Abruzzo dopodiché si interverrà sulla sicurezza come ha annunciato il Premier Renzi noi di area popolare siamo anche molto concentrati su alcuni emendamenti che riguardano il lavoro e la detassazione dei contratti di produttività dei contratti di prossimità legati alla produttività su questo punto faremo una battaglia c'è già qualcosa nella legge di stabilità noi siamo per alzare quel plafond poi ci sono tante questioni di dettaglio su cui l'Abruzzo è interessato io sto cercando di portare a termine questa questione della discarica di Teramo da risolvere così come c'è la faccenda di Bussi, dell'Aquila c'è la faccenda dei balneatori insomma la legge di stabilità anche se negli ultimi anni poi si è asciugata rispetto a quello che era in passato però contiene sempre tante norme di dettaglio e tante soluzioni per il territorio si torna a parlare di nuovi fondi per le aree interne della regione questa mattina a incontrarsi sono stati l'assessore regionale Andrea Gerosolimo e i sindaci della macro area Valfino Vestina obiettivo delineare il piano degli interventi da adottare dopo l'arrivo dei fondi del governo e dedicati al rilancio dei territori distanti dai centri di agglomerazione una strategia nazionale per il rilancio delle aree interne cioè le zone del paese più distanti dai grandi centri di agglomerazione e di servizio e caratterizzate da traiettori di sviluppo instabili queste aree coprono circa il 30,6% del territorio nazionale lontano più di 40 minuti da centri che offrono un sistema completo di servizi base come scuola, salute e mobilità si tratta del progetto dell'ex ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca e include l'Abruzzo tra gli obiettivi individuati Oggi incontriamo i sindaci della Valfino per far capire loro che se acceleriamo sul progetto sull'indicazione del referente d'area possiamo partire con la seconda area che attingerà dai fondi sia della programmazione europea che della legge finanziaria 2013-2014 quelli stanziati da Barca La strategia prevede nel prossimo decennio interventi destinati a ripristinare le condizioni di cittadinanza e il recupero demografico e per la sua attuazione sono stati stanziati complessivamente 680 milioni di euro tra risorse nazionali e regionali in Abruzzo la ripartizione è suddivisa tra istruzione, sanità e trasporti 3 milioni e 700 mila euro sui tre settori fondamentali come scuole, trasporti e viabilità e credo più o meno sui 9 milioni di euro per quanto riguarda i fondi della programmazione europea Primo appuntamento con i cittadini per la mobilità partecipativa attraverso un questionario l'amministrazione comunale ascolta i suggerimenti dei cittadini sul tema delle piste ciclabili Mobilità partecipata questa mattina state incontrando i cittadini per parlare di quello che vorrete fare per quanto riguarda le piste ciclabili la mobilità cittadina state coinvolgendo tutti i residenti i cittadini di Pescara Una prima risposta molto entusiasmante devo dire la partecipazione in queste piccole prima ora è stata veramente elevata e come si può vedere ci sono molti cittadini che si fermano domandano e riempiono anche il questionario Qual è il tema? Riconnettere le piste ciclabili siamo partiti da un punto nodale strada parco via Viale Regina Margherita Riviera tre parallele che non si incrociano la storia delle parallele che non si incrociano mai in geometria va bene per la ciclabilità non vanno bene quindi devono essere riconnesse tra di loro e trovare lo spunto attraverso come dire le indicazioni della città Ripeterete questa iniziativa anche in altre zone della città? Assolutamente sì al momento ne sono programmate già cinque sono cinque nodi particolari sui quali noi vogliamo incidere da subito e poi ci affideremo anche al suggerimento libero dei cittadini c'è un sito nuovo che abbiamo inaugurato in questi giorni che è pronto ad accogliere i suggerimenti non solo di ciò che abbiamo individuato noi come priorità ma anche di quello che ogni cittadino ci vuole sottoporre affronteremo tutte le questioni nella misura che ci è consentita nella convinzione nella prospettiva di ridare una riconnessione delle piste ciclabili per ridurre per quanto possibile anche con questo sistema una quota di traffico che strozza la città Restiamo in argomento ma ci spostiamo un po' più a nord perché la regione Abruzzo e la regione Marche stanno lavorando assieme per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra le due sponde del fiume Tronto Una importante sinergia tra Abruzzo e Marche si sta attivando per la realizzazione di tre importanti progetti per il territorio Affronteremo tre tematiche fondamentali Innanzitutto la progettazione preliminare del ponte ciclopedonale Martinsicuro-San Benedetto del Tronto ci saranno anche i sindaci delle rispettive cittadine e poi l'area di crisi Val Vibrata-Valtronto ed infine grazie a un finanziamento della regione Abruzzo e della regione Marche di 400 mila euro circa gli impianti sciistici di Monte Piselli Insieme alla regione Marche abbiamo tanti progetti in comune e ovviamente con la vicepresidente Anna Casini che è a Scolana condividiamo una serie di rapporti circa la contiguità dei nostri territori Ecco, nello specifico prendiamo un progetto quello della pista ciclopedonale Sappiamo che la regione Abruzzo sta investendo molto sulla pista ciclopedonale lungo la costa oltre 40 milioni di euro siamo in una fase di bando di gara sui 17 comuni coinvolti e le tre province coinvolte dalla nostra regione questo progetto strategico che ci unisce alla regione Marche e quindi a tutta la ciclovia adriatica è assolutamente importante cercheremo di inserirla nel prossimo masterplan e soprattutto all'interno della programmazione dei prossimi fondi strutturali europei Come nasce questa sinergia? Questa sinergia nasce dal io credo dal punto di vista proprio morfologico abbiamo in comune il tronto che ci unisce non ci divide secondo me che ci ha diviso per molto tempo dal punto di vista geografico ma che ci unisce perché noi abbiamo tradizioni comune credo che dobbiamo costruire ponti e costruire il primo ponte con l'Abruzzo e costruirlo su un'area su una riserva naturale e costruirlo ciclopedonale credo che sia oltre che importante dal punto di vista della mobilità dolce e importante dal punto di vista culturale Convegno sul conflitto sul primo conflitto mondiale oggi a Laurum di Pescara la presenza fra gli altri del presidente del vittoriale Giordano Bruno Guerri e del giornalista e scrittore Marcello Meneziani La grande guerra siamo quasi a cento anni da questo primo conflitto mondiale si parla tanto di seconda guerra mondiale e un po' meno del primo conflitto mondiale perché è sceso da una parte il velo dell'oblio per tutto quello che riguarda la storia precedente al 1945 e dall'altra parte perché si ha un giudizio soltanto critico nei confronti di quel massacro che fu la prima guerra mondiale non considerando anche gli effetti importanti determinanti che ha avuto sia nella storia mondiale che nella storia europea e soprattutto nella storia nazionale noi affrontiamo qui soprattutto il versante nazionale cioè quello che è stato l'effetto dell'interventismo culturale in Italia che ha spinto alla guerra un paese che sembrava riluttante, refrattario i temi della grande guerra sono ancora molto attuali oggi e poi è importante far conoscere ai ragazzi e ai ragazzi delle scuole quello che è accaduto cent'anni fa è importante anche perché la prima guerra mondiale è stato un po' il laboratorio anche degli orrori del Novecento nel senso che i regimi totalitari che ne sono seguiti i genocidi di massa lo sradicamento dei popoli l'uso della leva obbligatoria e quindi la costrizione di milioni di persone al fronte nascono proprio con la prima guerra mondiale quindi è stato un po' un laboratorio del Novecento Professor Guerri a Pescara per parlare della grande guerra e anche ovviamente di Gabriele D'Annunzio perché sono tanti i collegamenti tra il primo conflitto mondiale ed il VAT beh, lui fu un protagonista della prima guerra mondiale il generale D'Annunzio diceva se D'Annunzio potesse parlare prima di ogni battaglia dei soldati la battaglia sarebbe vinta così non fu sempre ma certamente è un protagonista significativo e importante soprattutto perché ha detto agli italiani il senso di un orgoglio non solo patriottico militare ma addirittura culturale Settimana per la riduzione dei rifiuti oggi a Francavilla il convegno conclusivo della campagna informativa organizzata dal Cosvega Pina Rosato Presidente della Cosvega oggi a Francavilla si parla della riduzione dei rifiuti in questa tavola rotonda è importante far sapere far conoscere ai cittadini queste buone pratiche Certamente nell'ambito della settimana della riduzione dei rifiuti della settimana europea della riduzione dei rifiuti in particolar modo la Cosvega quest'anno ha voluto programmare tante attività e coinvolgere i cittadini gli utenti ma soprattutto le scuole infatti in questa giornata c'è la partecipazione del liceo scientifico di Francavilla e la tavola rotonda si incentra su temi fondamentali quali la dematerializzazione che è proprio il tema suggerito dall'Europa poi il bilancio sociale che è l'ottica con la quale la Cosvega vorrà da oggi in poi guardare il programma da svolgere e migliorare quindi il rapporto con i propri utenti la formazione dei propri dipendenti e quant'altro e poi si parlerà anche di qualche metodo per ridurre appunto i rifiuti che è il tema fondamentale quale la misurazione puntuale dei rifiuti in base al principio comunitario di chi paghi quanta immondizia produci e quindi la tariffa puntuale domani a Mutignano il borgo storico di Pineto si alzerà il sipario sulla seconda edizione di Accendiamo il Natale Accendiamo il Natale è il primo evento che viene fatto nel comune di Pineto e viene parte proprio dal borgo antico di Mutignano ed è indetta dalla proloco Mutignano Borgo Antico è una giornata interessante perché si parla di enogastronomia di mercatini di bambini ed è una festa sia per i bambini che per gli adulti è una giornata all'insegna quindi del mercato natalizio enogastronomico ma anche tantissime attività ludiche per i ragazzi dove ci saranno i trampolieri ci sarà Babba Natale ci saranno i tamburi itineranti del Caracca di Roma ci saranno degli spettacoli medioevali quindi la tenda medievale c'è un parco divertimento dei ragazzi quindi verrà riprodotto un paesaggio natalizio quindi gli elfi concerti di musica rinascimentale concerti della sera invece da parte del piccolo coro Amadeus ci saranno dei concerti quindi una città che vive ma il punto clou di questa giornata è alle ore 17 quando tutti gli abitanti di Mutignano che stanno già fremendo e stanno già organizzando mettendo le luci perché saranno proprio loro i protagonisti di questa manifestazione perché allo scoccare delle 17 col suono delle campane ogni abitante accenderà le proprie luci e proprio da lì viene questo questo nome accendiamo il Natale perché è da lì che partirà questa questa festa e ogni abitante di Mutignano creerà renderà bello il proprio spazio e quindi questo paese diventerà per tutto il periodo natalizio uno scintillio di colori e di luci bene ora apriamo la pagina sportiva lo facciamo con i risultati di serie B la quindicesima giornata che sarà completata domani dal posticipo delle 17.30 tra Ascoli e Trapani i risultati odierni e con le tre partite giocate ieri sera sono i seguenti Avellino-Perugia 1-2 Brescia-Cagliari il risultato più a sensazione di questo turno 4-0 per il Brescia Cesena-Pescara 1-0 Comobari 1-1 Livorno-Novara 0-1 Modena-Virtus-Entella 0-1 Saernitana-Provercelli 1-2 Spezia-Crotone 0-1 Ternana-Vicenza 2-0 Virtus-Lanciano-Latina 2-1 per una classifica che vede sempre in testa il Cagliari ma il Crotone a questo punto si avvicina a quota 31 dunque a meno 1 il Bari non approfitta dello scivolone del Cagliari dopo il pareggio di Como la squadra di Nicola sale a quota 29 punti ma non accorce ulteriormente le distanze Cesena al quarto posto con 27 punti il Novara si prende il quinto posto a discapito del Pescara 25 punti per la squadra di Baroni 24 per la squadra di Oddo sale il Brescia a 23 poi Perugia il Livorno 21 con loro anche la Virtus-Entella quota 20 la Provercelli poi Trapani e Vicenza 19 Latina e Spezia 17 Avellino e Ternana 16 Saernitana e Modena 15 la Virtus-Lanciano supera momentaneamente l'Ascoli e Walter su ultimo posto 14 punti per la Virtus 13 per l'Ascoli 9 punti per il Como e allora andiamo a vedere come è maturata la sofferta quanto preziosa vittoria per la Virtus-Lanciano nel pomeriggio al Biondi vittoria 2-1 sul Latina e la terza vittoria in campionato vittorie sempre maturate al Biondi per la squadra di D'Aversa ecco il 2-1 sul Latina succede di tutto di più al Guido Biondi per la sfida tra Virtus-Lanciano e Latina ma alla fine l'aspetto che contava di più era la vittoria per i Frentani e tra i vari accadimenti del terreno di gioco anche questa condizione si è realizzata ancora 4-3-2-1 per D'Aversa ma con interpreti diversi rispetto ad una settimana fa c'è ancora Casadei tra i pali in difesa a Regione con Aquilanti in mediana rispolverato Bacinovic con Paghera mezzala a destra e dicecco a sinistra Piccolo e Marilungo dietro l'unica punta Padovan 4-2-3-1 per il Latina di Mario Somma con Daniele Corvia unica punta fischia il Marsicano Di Paolo per lui però al novantesimo e oltre saranno tanti i fischi che gli rivolgerà il pubblico del Biondi Lanciano Tonico che approccia in modo deciso la gara al secondo Marilungo appoggia per Mammarella che conclude a rete ma Farelli è costretto alla deviazione in corner al decimo il Lanciano trova anche il vantaggio fa tutto benissimo Antonio Piccolo che si ritrova in area di rigore e con il destro dunque non con il suo piede naturale lascia partire un tiro che sorprende Farelli non impeccabile in questa circostanza 1-0 e l'esultanza del numero 10 sotto la curva sud reazione Pontina di Brosco con un colpo di testa ravvicinato alza Casa Dei in corner la Virtus è convinta il raddoppio però non arriva arriva invece il pari del Latina al minuto 40 suggerimento dal fondo e palla comoda per la testa di Acostì che non viene contrastato efficacemente da Mammarella e fa 1-1 ad avvio di ripresa al primo a fondo ancora pericoloso in Latina con un cross deviato che chiama alla respinta difficoltosa Casadei il portiere Frentano per neutralizzare il tiro va a concludere il suo intervento infrangendosi sul palo il Lanciano al settimo un'occasione d'oro per riportarsi in vantaggio ma Padovan centra in pieno il palo minuto 11 e gli animi si surriscaldano contatto Puccino Calderoni al limite dell'area ma Di Paolo la vede in area di rigore e indica il dischetto tra le mille proteste calcia Corvia ma la palla finirà alta sulla traversa Valentina Maio a questo punto scatta dalla panchina e si rivolge nei confronti di Di Paolo che però l'allontana il Lanciano ci crede è bellissima la conclusione di prima intenzione di Bacinovic a volo ma Farelli devia qualche minuto dopo però il Lanciano resta in 10 doppio giallo per Di Cecco e Frentani in inferiorità numerica ma i rossoneri insistono e trovano la via del vantaggio con un calcio di rigore Brosco tocca di mano in area un prolungamento di Bacinovic Di Paolo concede la massima punizione minuto 29 e dagli 11 metri piccolo fa centro il finale è incandescente con Brusca Gin che ristabilisce le parità numeriche in campo e Di Paolo che fischia dopo 8 interminabili minuti di recupero va bene così perché a prescindere da tutto il Lanciano oggi doveva solo ed esclusivamente vincere e ci ha riuscito invece il Pescara ha perso ieri sera a Cesena 1 a 0 grande delusione per gli oltre mille tifosi a corsi in Romagna vediamo un Pescara sottotono esce sconfitto dal Manuzzi di Cesena al termine di 90 minuti che hanno visto la supremazia dei romagnoli che sono riusciti a conquistare i tre punti con il gol dell'ex dal dente avvelenato Antonino Ragusa che ha servito la sua vendetta fredda in apertura di gara Pescara da rivedere in una sfida caratterizzata da diversi errori in difesa e da una scarsa vena offensiva di Lapadula e compagni si comincia con le formazioni annunciate della vigilia e con una temperatura polare a scaldare la serata del Manuzzi 13.000 presenti sugli spalti in curva nord oltre mille i tifosi giunti dall'Abruzzo nel Pescara Gianluca Caprari reduce da qualche sintomo influenzale è regolarmente in campo fra i bianconeri Magnusson gioca al posto di Capelli al centro della difesa in avanti punta centrale proprio lui l'ex Antonino Ragusa l'altro ex pescarese Cascione in panchina avvio di gara equilibrato con le due squadre molto prudenti al nono c'è una punizione per i biancazzurri dai 25 metri con capitano Memushai che alza di poco sopra la traversa al decimo la risposta locale dopo una mischia di Ragusa che in area piccola vede la sua conclusione deviata in calcio d'angolo poco dopo arriva una punizione di Sensi che mette in area una palla perfetta per Ragusa che sul filo del fuorigioco di testa indisturbato mette in rete per l'1-0 gara subito in salita per la squadra di Massimodo che impiega qualche minuto per riorganizzarsi il Cesena preve fa male al Pescara anche al 26esimo con una parata in due tempi di Aresti su Sensi la squadra di Drago è indiavolata e al 28esimo con essi divora davanti ad Aresti il gol del raddoppio il Pescara fa fatica a proporsi pericolosamente dalle parti di Gomis ed è costretto a provarci dalla distanza come accade al 40esimo quando Caprari mira l'angolino mandando la sfera al lato di un sostio ancora Pescara al 43esimo con una punizione di Caprari che chiama alla parata Gomis con i pugni nella ripresa si ricomincia con Torreira al posto di Mandragora e Succi per Garitano all'ottavo Caprari chiama il salvataggio Gomis prima della parata con i piedi di Aresti su tiro di Sensi la gara vive di continui capovolgimenti di fronte così al quarto d'ora e che si a chiamare Aresti al Miracone in angolo passano due minuti e la Padula trova il pareggio ma in posizione di fuorigioco Oddo getta nella mischia anche Cocco al posto di Benalì con Ile Cesena che si rende però pericoloso in due minuti prima con un tiro di Perico a lato e poi Cone che fallisce dopo uno brutto stop di Zampano al trentesimo il gol del raddoppio il Pescara manda in campo anche Valoti ma le cose non cambiano ed anzi arriva l'espulsione di Torreira per doppia ammunizione dopo sette minuti di recupero arriva così il triplice fischio finale di Maresca di Napoli e così un'altra sconfitta per il Pescara chiamato ora al riscatto nella sfida di sabato prossimo all'Adriatico contro lo Spezia Le due squadre di Lega Pro invece saranno in campo domani inizierà l'Aquila alle ore 14 al Fattori contro il Prato praticamente tutti a disposizione del tecnico Carlo Perrone ad eccezione del solo Iannascoli recuperato Triarico provabile la conferma del 4-4-2 molto offensivo visto a Macerata 4-4-2 o 4-2-4 se volete in casa a Teramo invece il tecnico Vivarini pronto a tornare al modulo d'inizio stagione ovvero il 3-5-2 e tanti dubbi di formazione in particolare uno legato alla presenza del capitano Ivan Speranza che comunque è stato convocato sentiamo le parole del tecnico Biancorosso parole di presentazione della gara di domani loro loro hanno una giocata che ripetono spesso palla sui vertici alti e scarichi sulla mezza punta che è la vista e noi questa giocata qui non la dobbiamo assolutamente concedere faccio i complimenti a Masullo perché comunque ha fatto una buona prestazione sia col Pisa sia con l'Arezzo sono le due partite che abbiamo visto è una squadra diciamo che sa fare bene tutto sia nella fase difensiva si difendono bene e sono anche bravi nel giocare giocatori esperti perché dietro comunque c'è D'Ambrosio c'è Portano Masullo lì a sinistra c'è Avogardi lì a destra una squadra che secondo me è una delle squadre importanti di questo campionato poi davanti l'abbiamo già detto tre attaccanti ma non quattro attaccanti di livello superiore noi dobbiamo cercare di alzare i ritmi alla partita di essere molto molto veloci nelle ripartenze di essere molto attenti a non dare spazio agli attaccanti ho visto i gol che hanno fatto al Pisa insomma riescono a fare quei gol grandi attaccanti dobbiamo io diciamo non si dorme la notte insieme con i collaboratori miei per cercare di trovare le migliori soluzioni adesso in questa settimana stiamo lavorando tantissimo per cercare di ridare gli equilibri giusti a livello mentale è chiaro che il lavoro maggiore e quest'anno mi tocca farlo proprio sotto l'aspetto mentale e ora parliamo di Serie D proprio per la concomitanza della gara interna di Lega Pro del Teramo al Bonolis il San Nicolò che anche esso aveva un turno casalingo ha dovuto anticipare a quest'oggi il match tutto abruzzese contro la Miternina per il girone F ed è finita 1 a 1 botta e risposta un gol per tempo San Nicolò in vantaggio con Di Sante e poi nella ripresa il pareggio di Marco Tuglio per la squadra scoppitana in servizio nemmeno il quarto tentativo è quello giusto per San Nicolò per tornare a riassaporare il gusto della vittoria il derby anticipato al sabato contro la Miternina finisce infatti 1 a 1 momento opaco quello dei Biancazzurri meglio specie nella ripresa la formazione dello squalificato Angelone Epifani sceglie Dorazio a destra per sostituire lo squalificato Pretara mentre al centro dell'attacco al posto di Casolla va il giovanissimo Di Sante al decimo la percussione centrale di Petrone libera il sinistro fuori misura di Schiphol che non inquarra la porta di calore ma al San Nicolò è un diesel e ci mette un po' a carburare e l'occasionissima al tredicesimo se la ritrova sul sinistro Massetti dopo la sgruppata di Mozzoni il numero 11 da pochi passi gira verso Schina un pallone che picchia la parte inferiore della traversa ma ricade al di qua della linea di porta strozzando l'urlo in gola dei sostenitori biancazzurri al 27esimo la discesa di D'Alessandris col destro Debiato mette i brevi dei paroni di casa ma è solo un antipasto al vantaggio sull'altro fronte però della squadra di Epifani che arriva solo un minuto dopo quando Di Sante pescato in area di rigore da Merlunghi Di Piatto spiazza Schina e deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio Teramano Perlunghi al 42esimo avrebbe una buona chance per raddoppiare ma il destro da piazzato da buona posizione sorvolo alla traversa dell'estremo difensore della Miterlina il secondo tempo è decisamente più piacevole rispetto alla prima frazione gli ospiti salgono di livello il San Nicolò concede campo e metri agli avversari all'ottavo reclama la Miterlina per un presunto mani in area di mozzoni sulla pressione irregolare a giudizio dell'assistente centrone da parte di Torbidone ma gli ospiti provano a mettere il naso fuori dal guscio al 59esimo calore in affanno sul tiro cross di Gizzi che l'estremo biancazzurro tira letteralmente fuori dalla porta distendendosi alla sua sinistra anteprima del gol del pareggio che arriva al minuto 68 Calore regala il calcio d'angolo alla Miterlina che lo sfrutta nel migliore dei modi Franco Pennella De Santis perde Marco Tuglio che prende il tempo a tutte e gira le spalle del portiere del San Nicolò la rete del pare la Miterlina che avrebbe subito l'occasione del sorpasso lob di Petrone ma Torbidone sparacchia come peggio non potrebbe un'occasione ghiotta partita vibrante al 72esimo di Paolo stende Merlonghi rilanciato verso schiena e remedia il rosso diretto da parte di Piacenza a Miterlina in 10 Epifani opera un cambio addirittura a triplo fuori di Sante Brighi e Margherita dentro De Gidio Micolucci e Moretti sugli sviluppi del piazzato proprio di Micolucci la palla arriva a Massetti che colpisce non perfettamente il pallone gli ospiti nonostante siano in inferiorità numerica però giocano meglio all'87esimo ancora un corner di Franco con la sfera che arriva sul destro di Petrone lato di pochissimo l'ultimo sussulto al 92esimo lo regala la girata schiena non ha problemi un altro passettino dunque per la Miterlina in classifica dopo l'X di domenica scorsa fra le Muramiche e contro il Chieti per il San Nicolò invece che sale a quota 23 punti il momento no deve ancora passare si chiude qui la terza edizione del TG6 vi ricordo domani l'appuntamento intorno alle ore 14 con diretta stadio per seguire le partite di Lega Pro e Serie D e poi alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con Jacopo Forcelle il TG6 invece tornerà lunedì alle ore 14 con la prima edizione buonanotte e buona domenica l'Abruzzo del pallone l'Abruzzo del pallone